Mi è piaciuto il Crotone negli ultimi 25 minuti, prima avete sofferto molto il palleggio del Pescara. Ha visto un'altra partita, abbiamo giocato una metà campo sola, fino al gol. Mi sembra che la partita la stavamo facendo noi, quindi il palleggio l'aveva il Crotone e non il Pescara. Però non è stato mai propositivo come nella seconda partita. Lei aveva detto una cosa sicuramente diversa. La correggo. Ok, perfetto. Mi dispiace che abbiamo commesso quell'errore sul passaggio a Rodien e abbiamo perso un contrasto, un rimpallo. Conquistato il rimpallo, persa la palla, riconquistata e regalata. È chiaro che poi abbiamo avuto un contraccolpo, mi pare, intorno al 24esimo. Siamo stati meno incisivi nella capacità di tenere la palla. Poi siamo ritornati in partita e abbiamo fatto la partita come la stavamo facendo fin lì. Mister, si aspettava nel Pescara l'impiego di Mancuso come attaccante centrale? Perché la prima volta che quest'anno giocava in questo ruolo ha segnato due gol. Era una possibilità, sicuramente. Sapevo che hanno attaccanti veloci e quindi potevo aspettarmi di tutto. Sono contento della prestazione della squadra e mi dispiace ancora che abbiamo perso una partita su un errore ancora nostro. Ma al di là del primo gol, la squadra è sempre stata in partita, ha reagito benissimo, gran gol di Benali, straordinario. Ci ha rimesso in partita, però non puoi prendere il secondo gol come l'abbiamo preso. A proposito di Benali, le volevo chiedere proprio sulla posizione. Lei lo impiega da metodista, Pescara l'abbiamo conosciuto come esterno, come mezza punta. Secondo lei, questo giocatore, dove esprime il massimo? L'avete visto stasera? Sì, ha giocato molto bene. Allora sono contento di averlo fatto giocare lì. Perfetto, grazie. A proposito di... Ha fatto la sua gara, perdone. Ha fatto la sua gara, soprattutto i primi 15 minuti sullo 0-0, poi anche nella fase finale, però è mancata quel pizzico di cattiveria sottoporta. Sembra sempre che manchi l'ultimo passaggio, l'ultima cosa per riuscire ad essere più cattivi, e cinici sottoporta. Sono d'accordo, non puoi creare e avere la padronanza del campo in questa maniera e negli ultimi metri magari sbagliare il passaggio gol o non essere così incisivo come poi del resto, magari sembrava lo fossimo negli ultimi minuti. Devi andarlo a ricercare poi il risultato attraverso una... Magari non vorrei parlare di cattiveria, però un'incisività, una qualità diversa sottoporta. Mister, a proposito di Mancuso, sembra avere un conto aperto, Mancuso con lei, con il Crotone. Poi un'altra domanda... Si vede che l'ho allenato troppo bene al Milan. È vero, è vero, merito tuo anche. Poi un'altra cosa, avete premuto tanto, avete fatto tanto possesso palla, però è mancato un po' il Crotone nelle conclusioni, nello specchio della porta, non verso la porta avversaria, perché comunque avete tirato tanto, però poco, nello specchio della porta del Pestino. Lo dicevo poco fa al suo collega, non è semplice delle volte lavorare e aggirare l'avversario, giocare anche per vie centrali. Le opportunità le abbiamo create. A me la squadra è piaciuta tantissimo e deve continuare a lavorare in questa maniera qua. Dobbiamo avere l'incisività, come ha detto lei, come abbiamo avuto negli ultimi minuti, anche nel primo tempo. Sono tanti, però bisogna valutare come li abbiamo presi, sicuramente lavorare per non prenderli in questo modo. Fino adesso devo dire che per errori nostri, quindi c'è da lavorare. Grazie. 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 Grazie.